Mi dica Salvini. Le sto dicendo che sono pronto anche domani con le telecamere di Sky andare in una delle tante aziende agricole che hanno subito il terremoto e l'alluvione nella bassa modenese, io e la signora Chiang e poi facciamo parlare gli agricoltori e siano gli agricoltori a dire che cosa lo Stato e la Regione hanno fatto o non hanno fatto, visto che sono ancora in mutande. Voglio sapere cosa ha fatto Salvini, visto che noi insieme a tutti gli altri ero deputati, voglio sapere cosa ha fatto in Europa, abbiamo presentato questa situazione sia insieme ai nostri deputati per riuscire anche ad agevolare in tutta la burocrazia, nella fiscalità, proprio le imprese agricole. Salvini. Glielo dico subito. Guardi, noi abbiamo fatto approvare una mozione dal Parlamento, quindi anche da lei, che impegnava il governo a non far pagare le tasse per due anni. Ce l'hanno approvata e poi se ne sono fregati. Il piccolo problema, signora Chiang, il piccolo problema è che in Emilia voi avete i sindaci, le province, la Regione e il governo Renzi e l'Europa. Governate tutto, quindi non dovete proporre, dovete fare. Ai terremotati dovete dare delle risposte, non approvare dei documenti. Grazie mille.